Ci apprestiamo alla fine dell'anno e non soltanto, ci apprestiamo anche alla fine del decennio e quindi ho voluto stilare una piccola classifica che in realtà non è una classifica dei dieci libri che ho preferito in questi ultimi dieci anni e che fossero anche usciti in questo decennio. Non sono in ordine, quindi li tirerò fuori così da come li ho tirati fuori dalla mia lista assolutamente a caso. Vi racconterò un po' di ciascuno di essi. Ci sono libri cartacei, ebook e anche audiolibri, quindi c'è un po' di tutto anche in tutti i formati. Ci sarebbe anche un graphic novel, diciamo che però questo è un po' anche il video dei libri introvabili per cui non ve lo potrò far vedere ma vediamo di trovare una soluzione. Partiamo con i titoli perché sicuramente vi interessano un po' di più. Allora, in ordine assolutamente casuale, la prima cosa che però mi è venuta in mente quando vi volevo citare, volevo farvi questo video, era di citarvi la trilogia della pianura. Io ho cominciato con Benedizione, anche se non sarebbe il primo, anzi sarebbe il terzo della trilogia. Cominciate, se non li avete ancora letti, con Canto della pianura. E poi c'è Crepuscolo e Benedizione è l'ultimo. Io vi metto la trilogia come se fosse un libro unico, anche se si possono tranquillamente leggere in maniera separata senza che la vostra lettura ne sia danneggiata. Sono romanzi che raccontano di Holt, un paesino nel nord degli Stati Uniti, un paesino prevalentemente rurale in cui le vite degli abitanti si incontrano, si scontrano come in qualsiasi altro posto del mondo. Le vite sono vite di persone normali, vite anche abbastanza infelici, persone povere, persone che cercano di mettere insieme il pranzo con la cena, persone assolutamente vivide che proprio escono dalla pagina e sembra di conoscerle. Assolutamente super consigliata, uno stile di scrittura molto semplice, molto piano, che invoglia la lettura. Io veramente, nonostante non succeda niente di straordinario, li ho divorati. Una volta che ce li avevo in mano non riuscivo a smettere di leggerli. Di Aruf, pubblicata in Italia, ci sono ancora altri due libri che devo ancora leggere e che mi tengo lì negli angolini perché li tengo per i momenti bui. Assolutamente super consigliata, per me è stata una grandissima rivelazione. Un altro libro di cui vi ho parlato fino allo sfinimento e che per me è stato un libro più bello del 2018, insieme ad un altro di cui poi vi parlerò, Marco Rossari, Nel cuore della notte. Vi ho girato anche un video di un libro in cinque minuti. Questo libro parla di un viaggio, ma anche dell'Italia odierna, pur senza nominare partiti politici e personaggi. Tuttavia ci presenta una situazione assolutamente, completamente verosimile e abbastanza tragica, tra l'altro, di come l'opinione pubblica può rovinare la vita di una persona per delle cose assolutamente private. Super consigliato, la scrittura di Rossari è ipnotica e anche molto ben costruita. Si vede che le parole sono scelte con cura ad una ad una e assolutamente questa è una storia consigliata sia per il tema, sia per la scrittura, sia per la storia. Tornando a un editore che amo molto, due libri di Jasmine Ward, in attesa del terzo, che farà la trilogia di Bois Sauvage, Salvare le ossa e Canta Spirito Canta, due storie ambientate nella zona del Mississippi. Questa è la storia di una famiglia di neri che non hanno più la madre e che si stanno preparando all'uragano Catrina e invece questa è la storia sempre di una famiglia di neri con la capacità di parlare con gli spiriti. Qui il padre e la madre ci sono ancora, ma questo non vuol dire che sia una famiglia felice. Non c'è più il fratello della madre, ma tuttavia le compare di tanto in tanto, mentre il ragazzino più piccolo ha la possibilità di comprendere gli animali, ma anche riuscirà a parlare con lo spirito di un amico del nonno, morto purtroppo moltissimi anni prima. E' una storia assolutamente straziante, tragica in entrambi i casi, bellissima, con una scrittura epica che è come se togliesse certi tipi di colori, di sfumature e fosse solo con colori forti, colori primari e grandi contrasti. Proprio una scrittura favolosa e non vedo l'ora che in Italia esca anche il terzo della trilogia. Anche in questo caso è una trilogia, per modo di dire, nel senso che sì, il paese è lo stesso, però nel secondo romanzo i protagonisti del primo compaiono soltanto di sfuggita e si può comprendere perfettamente tutto il resto del romanzo senza... cioè proprio c'è solo un paragrafo dedicato a loro che vengono incontrati per strada, ma assolutamente non c'è attinenza con la storia, attinenza con i personaggi, niente, si possono tranquillamente leggere in maniera separata e io li consiglio, entrambi per me fanno parte di un blocco unico. Il quarto romanzo di cui vi parlo è un romanzo che possedevo anche in cartaceo, anche se io l'ho ascoltato, ma purtroppo non riesco più a trovarlo e quindi ve lo metto qua. Si tratta di Paradiso e Inferno, dunque si tratta della storia di due giovani che vanno a fare i pescatori e di una tragedia che poi, non dico che si trasformerà in una cosa positiva, ma che avrà un'evoluzione che un po' scalda il cuore. È un romanzo tenero, dolce, straziante che davvero, mentre lo ascoltavo, mi sono fermata in mezzo alla strada perché mi veniva da piangere da tanto era toccante, con dei fortissimi legami letterari, c'è un forte legame con Il Paradiso Perduto di Milton che viene citato ad ogni piesso spinto e che in parte sarà la causa della tragedia e c'è questa frase niente mie delizia tranne te che viene ripetuta più e più volte nel corso del romanzo e fa da contrapunto alle vicende che accadono. Assolutamente una lingua poetica, dolce, tenera, dei personaggi anche qui vividissimi che escono dalle pagine, dei personaggi che anche qua non sono eroici, non fanno niente di speciale e però sono in grado di conquistare il lettore con la loro semplicità e la loro tenerezza e la loro inadeguatezza anche proprio un romanzo bello bello. Un po' meno mi è piaciuto La Tristezza degli Angeli, prima o poi però andrò avanti ad ascoltare anche il terzo perché anche qui si tratta di una trilogia, si tratta della trilogia del ragazzo e vedremo un po' come va a concludersi. Ve ne racconterò il prossimo anno. Invece un libro che sono riuscita a ritrovare, che ho letto in cartaceo e che anche qui vi ho fatto una capatanta, Tutta la luce che non vediamo, un premio Pulitzer, narra la storia di due ragazzini, una ragazzina francese che perderà la vista proprio all'inizio del romanzo, un ragazzino tedesco, poverissimo, ma con una grande abilità nel costruire e disfare radio e che poi lo porterà appunto a combattere nella seconda guerra mondiale come esperto di radio, alla fine del romanzo ma anche all'inizio praticamente si capisce già da subito, finiranno per incontrarsi e per essere l'uno l'artefice del destino dell'altro. Nel frattempo li vediamo separati, vediamo le loro vicende nel corso della crescita, della povertà, dell'arrivo della guerra, la tenerezza assolutamente che si percepisce da questo romanzo è straziante come è anche straziante il fatto che ci metta davanti all'orrore di tutte le guerre. Qui c'è la seconda guerra mondiale ma avrebbe potuto essere una qualsiasi altra guerra ed è davvero proprio una denuncia forte di come l'avidità degli esseri umani porti a fare, a compiere delle azioni mostruose da un certo punto di vista anche la guerra, da altri anche il cercare di procurarsi una pietra preziosa che nella leggenda sembra abbia dei poteri miracolosi. Un romanzo di cui non credo di avervi mai parlato ma che sicuramente avete già letto tutti e che effettivamente è stato un caposaldo dell'editoria dell'ultimo decennio sicuramente è Stoner. Anche qui non vi vengo a dire niente di particolare sicuramente la storia la conoscete tutti e credo che la totalità di voi l'abbia già letto. È la storia di un professore universitario, un uomo semplice che era andato all'università per studiare agraria e che poi ha un colpo di fulmine per la letteratura che gli durerà per tutta la vita. Nella sua vita non succede praticamente niente di straordinario, ha un matrimonio infelice, una figlia molto amata ma anche lei che sarà una donna infelice, anche la sua carriera universitaria sarà senza picchi e anzi forse con più abissi, un personaggio assolutamente limpido e fedele a se stesso dall'inizio alla fine del romanzo. Una scrittura anche qua limpida e poetica ma semplice anche qua un romanzo assolutamente consigliato. Se fate parte dell'1% della popolazione che ancora non l'ha letto e che ormai l'AIP è passato riconquistatelo recuperatelo perché ne vale assolutamente la pena. Non immaginatevi niente di sconvolgente però è un romanzo bellissimo e che nonostante sia molto triste scalda il cuore. Una raccolta di racconti di cui si è parlato poco purtroppo e che io ho letto all'inizio del 2019 si tratta di Persone care di Vera Giaconi sono dei racconti molto brevi scritti da questa autrice sudamericana con una penna super tagliente che non risparmia nulla e che ci fa vedere questi quadretti familiari in cui nonostante le persone si vogliano bene appunto queste persone si trasformano in realtà in nemici l'uno dell'altra o per delle delle bazzecole oppure per delle situazioni abbastanza tragiche come ad esempio la caccia ai dissidenti politici ma anche la sorella che va a fare il reality oppure il fidanzato della sorella che va a fare il reality insomma tutta una serie di situazioni in cui sì le persone si vogliono bene ma alle volte si accoltellano alle spalle quasi anche senza volere dei racconti brevi si leggono in maniera molto semplice e però sono davvero pregnanti secondo me è una raccolta che avrebbe meritato un po' più di notorietà e io ve la consiglio assolutamente tra l'altro tenete d'occhio il catalogo sur perché di tanto in tanto la mettono in offerta io l'avevo comprata proprio in offerta 2,99 euro ed è stata veramente una lettura folgorante adesso veniamo al libro di cui mi dispiace di più di tutti di non trovare più l'ho cercato dappertutto per tutta la casa dove tengo i graphic novel nell'ordine alfabetico della libreria nella libreria dei non letti perché ho pensato che potesse essere finito da quella parte non so per quale ragione ma purtroppo non è più saltato fuori per fortuna vi avevo girato un video interamente dedicato e quindi ve lo linko qui sopra e così potete andare a vederlo proprio perché secondo me vale la pena di vederlo questo libro sto parlando di Il piano orientale che narra la storia di un uomo che tentò di costruire un pianoforte che potesse riprodurre sia le melodie orientali sia quelle occidentali e che sembra essere la storia vera del nonno dell'autrice una storia che si svolge in parte in oriente in parte in Europa che porta dall'epoca del nonno a quella dei giorni nostri con l'autrice protagonista con praticamente un capolavoro grafico assolutamente sorprendente e di cui io vi voglio parlare poco andate a vedere quel video più che altro perché vi mostro le pagine e sono veramente dispiaciutissima di non averlo più trovato sto anche valutando l'ipotesi di andare a ricomprarlo se davvero non dovesse saltare fuori in casa perché è veramente non solo una bella storia ma anche un capolavoro grafico in cui la musica sembra veramente uscire da ogni singola pagina è veramente un libro musicale anche il rumore della pioggia dei passi proprio bellissimo davvero senza fare dei suoni senza aver contenuti dei suoni i suoni escono dalla pagina un vero capolavoro di graphic novel consigliatissimo chiudiamo la decina anche se appunto non è una classifica con due testi italiani anche di questi vi ho fatto una capatanta e quindi ormai non ne potrete più il primo di cui vi parlo è senti le rane dico la grande la storia di uno scandalo di paese raccontata da due amici al bar tra di loro con uno stile molto colloquiale con degli argomenti che saltano dall'uomo vitruviano appunto al prete del paese la televisione le minorenni eccetera veramente uno stile spiritoso un'intelligenza non differente sapete anche che era il mio candidato del cuore al campiello sia quando usci questo sia quest'anno e spero di leggere tantissimo altro con la grande perché è un autore che mi piace tantissimo per il suo stile letterario così frizzante così colloquiale e davvero un aspettato originale secondo me nel panorama italiano se amate Paolo Nori non ve lo perdete l'ultimo di cui vi parlo è invece una quadrilogia sicuramente l'avete già intuito e anche se mi manca ancora l'ultimo romanzo di questo gruppo non posso non citare L'amica geniale di Elena Ferrante un gruppo di romanzi che ho letto in ebook l'ultimo il terzo l'ho ascoltato e consiglio entrambe le fruizioni l'attrice che interpreta la lettura Anna Bonaiuto è favolosa secondo me è perfetta per questa interpretazione per cui sia alla lettura in ebook penso anche in cartaceo ovviamente sia all'ascolto si sono dimostrati dei testi che io ho assolutamente molto amato e che tra l'altro in tre diverse occasioni mi hanno completamente liberata dal blocco del lettore per cui un testo consigliatissimo e tra l'altro secondo me il primo vero grande tentativo di scrivere il grande romanzo italiano cioè tutta la storia italiana dal dopoguerra fino ai giorni nostri narrata vista dagli occhi di due donne che sono da bambine fino a donne anziane ma che ve lo racconto a fare che lo saprete già tutti sicuramente perché non potete non aver sentito parlare dell'amica geniale è stata fatta perfino una serie televisiva in collaborazione con gli Stati Uniti per cui credo che praticamente tutte le persone sulla terra ne abbiano sentito parlare questi erano i miei dieci libri preferiti di questo decennio naturalmente ho lasciato fuori tantissimi altri libri che ho amato non ci potevano stare tutti già ho barato abbastanza infilando dentro trilogie quadrilogie e chi più ne ha più ne metta se voi avete dei libri che avete moltissimo amato durante questo decennio magari me li raccontate nei commenti chiacchieriamo un po' ditemi i vostri pareri su questi libri che io vi ho citato e noi ci rivediamo lunedì con il prossimo video e nel frattempo buona lettura a tutti e nel frattempo Grazie.